Segui un cagato al tonno Non sono! No 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 Alexi stai vicini No 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 Tutto bene Alexi? Nooo Alexi Non dovete urlare Casa nooo ma Eh questo è l'altro Stai facendo un disastro Alexi Dammi la Devi parlare Devi parlare Balla balla No vieni con me Sono un disastro Vieni con me Ma è la tesi Alexi Brava c'è tutto enorme Alexi Ti amo Grazie Hai detto grazie bro Alexi come grazie Ma se c'hai due tette che esplodono È una giornata estremamente importante Siamo in estremo ritardo Causa wild cage Causa pioggia Causa problemi tecnici Ma ci siamo Ed è una giornata importante ragazzi Infatti voglio supporto a voi Spam di qua in chat È una giornata importante Alexi è veramente emozionato Non sono obbriaco E non l'ha ancora bevuto Mandate tra i fili ragazzi Che adesso andiamo di lì Cinque minuti di tempo Abbiamo dovuto bere Un drink a goccia ogni minuto Ok così Facciamo cinque tre gocce Sì io che Alexi Andiamo a fare una giornata L'MMDM Ok sei pronto Alexi La giornata poi andiamo in un barrettino Bello due tre cose Qui siamo obbriaco marcio E poi vi lascio andare in hotel Eh Devo bere bro Ma bene cosa Alcol Alcol Fatemi sentire chat Alexi Abbiamo poco Fai vedere l'asfit Guardate l'asfit Alexi Guardate l'asfit Fatemi la giacca elegante Della mia taglia Fatti vedere Eh Ma che altro Mi è Stai tutto imborgesito Mio fratello Prendimi dei pantoni eleganti Mio fratello Palmencias Mio fratello Scarpe eleganti C'è meglio Minchia sembri il grembo Te lo giuro Per un attimo Quello andiamo a bere Alexi Cinque minuti Dobbiamo farci Un drink al minuto a goccia È una giornata importante Hai visto che bella porca? No Ma sotto la donna Non c'è nulla? Cioè No nulla Ce l'ho sicuro Ah Hai capito eh Che nulla Sì tu Nell'altra terra Sei l'altra E tu Vieni con me Vieni con me Ma dove stai andando? E dove vado io? Forza quello con me Vieni vieni Anch'io? Alexi Tu lo dico io dove sta Vieni vieni qua Stendilo bene qua Stendilo 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 Apri Due tecniche ti faccio Questi tutti nel c***o Così non No Alex Così non si sporca sotto il ciclo Esatto Uno Questo è un po' di tre capirine Gli diamo tre metri a capirine A mano di testa Questa è un po' del c***o Ma lei si Aspetta Lei la metto a peco La mal di schiena Soluzione capito Ma questo ti fa a bocca Metto fidati Spacchi la c***o Ma c***o Ma c***o Questo cosa serve? A cosa serve? Spiegamelo Accordati Per il c***o Il c***o viene per gli occhi Metti che s*****o gli occhi C'è pure una Questa è un medici Importante Serve sto medici Devi bere c***o Ci sei? Alexi? Alexi Attiva un minuto di timer Vai 3 2 1 Alexi la goccia Che s*****o Vai Ma me ne hai messo in carica Il telefono Ma gli amici come Mi fai la bocca Quindi ogni 5 sub Un bicchiere di alcol Ma poi il bello Lui fa tutto la scenata Ma lui è felice di bere E' felicissimo Non vedeva l'ora di bere Beh Uno ha fatto una domanda importante Ma dove la c***o Dove la c***o Lo andiamo a prendere In sternata C'è la serata sotto casa Così le scende Ce la chiamiamo Mandiamo loro due Non credo Che possiamo fare una cosa del genere In live Ma allora Mi ha messo 3 kg di vodka 2 Non sei che non sei più una Red Bull 26 No bro Alexi devi bere Basta E' terzo Ma che bella porca Oddio E' terzo Vado a berlo da solo Vado a berlo da solo Aspetta Alexi Faccio vedere la c***o Vado a faccio a goccia con la c***o Dai ragazzi Chi si è la sc***o Ma chi? Non è capito il resto Ma tu devi La c***o Sì dai È lui È lui Sai che è sc***o lui Ma siamo un po' Ci sono due Certo vai No No c***o No bro Hai fatto un c***o Venuto Dai figlio di p***o No Ed No 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 è no Eh no 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 cola no no Eh no è giù Eh no È giù Eh no Eh no Apriamo Ti ero Che è la camera nostra Oddio lo specchio Occhio, il coso dei miei, porco zio No No, non sa tutto a Sasha Oh, sto scalato in 30 secondi, bere? Andiamo? Occhio, occhio Camilla No Dio Mi hai ragionato una scorrezia Che manco vi dico, guarda Ah sì, dai Basta, dai Ma dai, chi è che guida? Io Io Ma devo guidare io, ma non c'è la parte che mi sono credo addosso Non puoi guidare Guido io Non c'è No, 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 Alexi, stai vicini Penso che c'è stato scritto nè qualcosa Cioè, sbagavi Ma Alexi, vieni qua Tutto bene Alexi? No Non deve trullare Casa nuova Sapete chi era un'e Casanova? No No È meglio non dirlo Guarda qua, guarda le scarpe come si illumiano Le mie Dior Oddio Porco Porco Ti ho capito? Che porco è Porco Porco Dino Dino Porco, porco No E non faccio sponsor con Dior Ma scorreggio dal buco del culo Come se fossi Ai But I'll touch the sky E io gioca Ok Io gioca Ok Metti che piove Tu sei fra dentro casa No, ce ne sei dentro Ci sei? Certo Tu sei dentro No, e io come? E io E io E io E io Sulle mani E io E io E io E io E io Possiamo andare fra Oddio piove E faccio veloce Dai Oddio Oddio Sì, sto davanti È difficile Accendi la luce Oddio Tieni questo Sei pronto? Quando arriviamo sotto casa di là, ok? Tu devi settare Io poi ci penso io con lei Vado su Devo settare una live Devi no, la live La canzone, la serenata, ok? Ma chiami Ma di lupio Adesso prima di parlare con me Devi parlare con me un attimo Un secondo La chat la leggiamo prima di salire Prima di farla serenata, ok? Adesso MVDM uscirà da qua, ok? Adesso FUB si sistema lì, ok? Noi ci mettiamo la connessione La musica al massimo Lei uscirà Si metterà lì E tu Canti la canzone Trantrano, sei sicuro? Trantrano? Ma la canzone napoletana Ma che napoletana? Sì, 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 sì Certo Poi che capoletana è il go Dai, vado dirlo al digerio Certo Alexy, è il tuo momento È il tuo momento Alexy, ti hai detto È solo per te Cos'è che devo fare? Appena di pure Ma è subito a marcio Alexy, toguitela pure Vai, Alexy La scena è tua Certo Vai Vai no non si fa la pena farà bene non è male si se vieni con me vai alza oh pezzo di me ma dai ma ci raccomando in mano fra alessi dammi qua no dai dammi la cam stiamo facendo un'esame stiamo facendo un'esame stiamo facendo un'esame devi ballare devi ballare no vieni con me c'è un disastro vieni con me ma è la dedica Alexi bravo c'è tutta una armistra Alexi no no ha fatto un disastro salutala è obriachissimo eh scusi se mi evitiamo Alexi è obriachissimo è in condizione rifiutosa blocca le condizioni rifiutosa è in condizioni rifiutosa Alexi salutala salutala ciao buongiorno delizia eh è il POV di Alexi in questo momento eh bro sto con la ciazza non posso ciao no certo va bene saluta bene no saluta bene no che fu il cane su Alexi porco di quel cane ci penso io vieni con me vieni con me vieni con me vieni con me allora shhh vai via dobbiamo prendere il telefono di sverso non sverso metti di capire io sono beco marcio strano ti ho bevuto no come no no perchè no sono a dieta certo allora quindi se non hai bevuto come facciamo cos'hai qua un tatuaggio ok ha un tatuaggio in dove no no è un tatuaggio da mia sorella a posto ma cos'è ma cos'è vai giusto continua 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 una dedica una dedica una dedica un attimo un attimo vai tranquillo senti video bro ti amo grazie hai detto grazie come grazie sei carino ma non siamo ancora sei carino ma ti bevi nuda alexi stai facendo disastro eh dura ma oh ma il disastro di cosa non è che sei ma stai facendo disastro ciao ricordati che da la vita dai vai qua occhio ai cavi e io tu brillo mi spiace davvero per te mi chiedi a me eh mi spiace per te davvero alexi sei una m***a di uomo non ti piacciono i ragazzi timidi no perchè no guardalo guarda che è così timido basta che c'è un cazzo timido è una cosa un rin*****o è un'altra una brutta p***a di uomo c'è però rin*****o è un c***o cioè se lui fosse venuto ci sareste mai stata? eh se lui fosse venuto scandisci le parole se lui fosse non devi guardare perchè ti chiedi 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 miau dai rosso sta fommitando alexi mi andrei sopra si si sta fommitando alexi mi andrei sopra mi ha capito sta fommitando alexi si mi andrei sopra ciao ragazzi mi raccomando mi raccomando non tiratele troppo lunghe in bagno non pippate troppo forte in bagno ciao ragazze piacere alexi agna magna agna magna che ti passa alexi 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 siete single? no io no c'è il nostro amico che è sotto in bagno che vuole conoscere alexi non no non ci va così ciao sono nuovo camere mi piace dili ti piace? mi piace sono molto ti piace? mi piace mi piace è tutto bene è tutto bene è tutto bene è tutto bene per la prima volta la prima volta è inquadrato da un cameraman ragazzi la possenza di un uomo che appena non ha boccato nulla non c'è nulla non c'è nulla la camera è il lavoro più brutto della vita allora iniziamo da capo perchè ti giuro sto molto meglio sicura vive bene cosa? vive bene perchè questa domanda? non può frenzon ti stai frenzonando io a te io non vedo questa frenzon però mettetevi voi bene ma c'è ma stavo parlando ciao sai che sta facendo? ma stavo pensando un discorso ma che fai la timida? cioè io sono timida io timida io sono timido lo faccio un po' apposta però tu sei timida non io no no ma che stai live sempre così ma se non sai provarci allora ti spiego ti spiego io ti ho detto cosa mi piace una persona che ci provi in maniera come un principe un principe aderito questo come un principino vuoi ti spiego live è una cosa ragazzi scusate ruote il vostro dream ma appena sbrattato bro io ho caldo ma perché devo dire cose che non è vero? è caldo? allora grazie mille sono le carottine sì no noi non ce le hanno però ci penti tanto c'è tutto tutto subito subito avresti tutto dietro tutto dietro tutto dietro tutto dietro tutto dietro tutto dietro avresti guardato certo sì ha preso una stanza in utensilio proprio di usato allora spiegami una cosa però sonoata un po' male perché perché sta a fare così in live? così come? ma sì quella che no 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 tutto così perché? io non ci ho provato con chi? con te e neanche io con te allora perché ci siamo attorno? fanno i complimenti sugli occhi per prenderli la mano ma ragazzi ma dove siamo finiti? ma dove siamo finiti? per essere un po' romantici ah ecco dire che sei una bella porca tutta sporca non lo sono sai che non sei? una bella porca sporca ma se c'hai due tette che esplodono scusa scusate in ginocchio ah in ginocchio che sei a mia moglie ma è in ginocchio scusate in ginocchio non sto scherzando perché? non sto scherzando scusa ti ho detto che devi essere carino scusa e abbaio sulla figa la tua tipa nuda in club muove la colita la tua tipa nuda in chat fa la pervertita manda news su whatsapp della fragolina non mi abbono su Alifans e abbaio sulla figa come fare? sono rosso io la scopo con la candida ne esco rosso pieno di sangue anche se c'ho la minchia pallida non mi abbono su